Guido, Guido, chi stavi tentando di passare in staccata? Tutti Paolo, tutti. Hai passato? Cioè io ho visto un varco all'interno della prima, alla San Donato, perché stavano tutti larghi, volevano essere scorrevoli, ho detto di infilo tutti. Cioè è stato? Non ha funzionato. Non ha funzionato. Però puoi dire? Che ho provato a passarli tutti. Certo. Cioè io alla San Donato ho attaccato Iennone, Biagi, Capirossi, Locatelli, Gramigni. Sono più allenati. Ti ho fregato per quello. Purtroppo con queste gomme da corsa moderne avevo la spalla a destra fredda. Ti faccio vedere chi è Carmelo. E poi c'è da dire una cosa, che Biagi con la sua esperienza di Pony Express non era molto legale in una gara come questa perché aveva già dell'esperienza. È vero. Sì, io non ho fatto il Pony Express in effetti. Però ho rovinato la tuta. E lì Dainese, vedere, vedere, una bella schiappettata normale. Ma è tanto rovinata, no. Beh, si cambia quel pezzo comunque. Va bene. L'importante, Memento Audere Center. Anche Memento muori. Anche Memento muori.